Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere molto brevemente come è andata la trimestrale di Paypal uscita ieri sera. Io sono qui a registrare il video prima di andare al lavoro, ma ve lo pubblico poi stasera. Non ho idea di come aprirà Paypal e cosa farà durante la giornata, però sostanzialmente adesso dovrebbe aprire con un gain del 1-2%. Poi i mercati adesso fanno un po' come vogliono, quindi non sapremo effettivamente come ha reagito il mercato alla trimestrale. Io personalmente l'ho vista e sono abbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti. Per chi non lo sapesse ho fatto anche un video qualche settimana fa dove vado a vedere quanto sostanzialmente ho visto su Paypal. Quindi se ve lo siete persi vi consiglio di recuperarvelo. Comunque in linea generale ho abbastanza una grande posizione su Paypal e oggi andiamo a vedere sostanzialmente cosa ho pubblicato ieri. Come sempre sono andato a vedermi un po' la trimestrale tramite learnings release e poi sono andato anche a leggermi un po' la conference call e vi sono andato ad elencare secondo me le cose più importanti da dire. Diciamo che la notizia più importante è sostanzialmente che l'attuale CEO che si chiama Shulman si retirerà appunto dalla sua posizione al 31 dicembre 2023 e questo permetterà all'azienda di effettuare la transizione da qua fino al 31 dicembre. Sinceramente non so come prenderla come notizia perché sicuramente Paypal sotto la sua amministrazione ha performato bene perché pensate che Shulman è in carica come CEO di Paypal dal 2014 e l'azienda dal 2015 ad adesso ha praticamente triplicato il fatturato in 7-8 anni quindi ha sicuramente performato bene come CEO. So che dal mercato non era visto benissimo perché in generale non è mai stato forse un ungimirante perché potenzialmente Paypal visto l'andamento del mercato dei pagamenti digitali avrebbe potuto performare addirittura meglio perché comunque si trovava come first mover in uno dei settori più ad alta crescita e non so se effettivamente era sfruttato a dovere però personalmente finché non so il nome del nuovo CEO non posso esprimermi quindi non so se prenderla come notizia positiva o negativa. Per quanto riguarda l'uscita dei dati del trimestre abbiamo avuto un double bit infatti gli analisti si aspettavano un'utile operazione di 1,2 ed è stato 1,24 mentre per quanto riguarda il fatturato si aspettavano 7,39 miliardi e Paypal ha fatto uscire un dato di 7,4 quindi è stato un double bit non di tantissimo ma comunque c'è stato quindi sotto quel dato lì benissimo. Una cosa che sicuramente ha fatto piacere il mercato è il fatto che Paypal ha rilasciato una guidance e a mio avviso è abbastanza positiva infatti la guidance è di un'utile operazione per il 2023 di 4,87 dollari contro le stime del consensus che erano di 4,76 per quanto riguarda invece le stime direttamente nel prossimo trimestre Paypal si aspetta un fatturato in crescita anno su anno del 7,5% quindi a mio avviso è una crescita in lina con quello che si aspettavano gli analisti. Altri dati interessanti sono che Paypal attualmente ha aggiunto 2,9 milioni di conti attivi nel trimestre raggiungendo un totale conti attivi per quanto riguarda tutto il suo ecosistema di 435 milioni con un aumento dell'1% trimestre-tutimestre e il 2% rispetto all'anno precedente. Quindi personalmente c'è ancora margine di crescita mi aspetto da Paypal tassi di crescita più elevati però nel complesso anche vedendo la base comparativa diciamo che ci può stare. Hanno poi fatto anche uscire i dati sul total payment volume che sostanzialmente è la somma di tutte le transazioni che ci sono state all'interno della loro piattaforma che è stata di 357,4 miliardi di dollari in aumento rispetto ai 337 del trimestre precedente e ai 340 sostanzialmente del trimestre dell'anno prima. Sicuramente un fiore all'occhiello di Paypal è Venmo che secondo me è la piattaforma che dovrebbe trainare il gruppo nei prossimi anni il total payment volume della piattaforma è stato di 62,5 miliardi con un aumento su base annua del 3%. Un'altra cosa che ci teniamo a farvi vedere è il fatto che Paypal si aspetta nel 2023 di fare un buyback pari all'incirca al 75% del free cash flow annuale quindi un buyback abbastanza elevato. Altra cosa importante che voglio farvi vedere è il fatto che se noi andiamo a vedere qual è stata la crescita di Paypal senza tenere il conto del rischio cambio la crescita è stata buona perché è stata del 13% per il total payment volume del fatturato del 10% e del free cash flow del 4% raggiungendo i 5,1 miliardi quindi un buon free cash flow. Un'altra cosa che ci teniamo a farvi vedere è il fatto che nel 2022 quindi l'anno appena passato Paypal ha ricomprato all'incirca 41 milioni di azioni più o meno avendo un ritorno per i shareholder all'incirca di 4,2 miliardi di dollari quindi molto bene e nell'ultimo trimestre all'incirca di un miliardo. Altra cosa interessante è il fatto che Paypal da quando ha lanciato il servizio buy now pay later nel 2020 ha rilasciato all'incirca 200 milioni di debiti a circa 30 milioni di clienti. Ora però andiamo a vedere la parte più importante che secondo me è quella che vi interessa di più che è la mia valutazione personale aggiornata su Paypal. La mia valutazione è fatta tramite un algoritmo creato da me so che tantissimi di voi mi stanno chiedendo quando sarà disponibile però purtroppo fino a quando non mi riattivano la monetizzazione che per chi non lo sapesse io sto facendo tutti i video questi qua gratis perché non ho attualmente la monetizzazione attiva quindi quando me la riattiveranno attiverò anche gli abbonamenti e quindi successivamente avrete la possibilità di abbonandovi sfruttare il mio algoritmo. Attualmente Paypal ha una valutazione di 6.54 su 10 che vi sembra bassa ma in realtà non lo è perché i rating sono abbastanza stringenti e quindi valutazioni sopra la 6 in generale sono da considerarsi molto positive. Andando a vedere l'ultimo stato patrimoniale rilasciato che è quello appunto rilasciato ieri vediamo come attualmente Paypal abbia 47.2 miliardi di dollari in cash che c'è equivalent contro debiti a breve di 0 e debiti a lungo termine di 10 miliardi. Pazzesco! Uno stato patrimoniale messo veramente veramente molto bene infatti ha un voto di 7.22 su 10 quindi molto molto bene. Per quanto riguarda il conto economico la valutazione è più bassa e questo tutto principalmente al fatto che a mio avviso Paypal visto il settore in cui opera dovrebbe avere margini più elevati infatti fino a quando non migliorerà i margini il mio voto rimarrà questo all'incirca deve anche migliorare sul ROE e sul ROI che a mio avviso sono troppo bassi per il settore in cui opera. Anche un valore che non mi piace è il tax rate cioè Paypal non può pagare il 28% di tasse è altissimo rispetto ai competitor in generale alle tech companies americane. Per quanto riguarda la votazione sui multipli a mio avviso adesso Paypal ha una buona valutazione perché ha un price earnings all'incirca di 20 un prezzo free cash flow di 17 e un PEG buono perché è intorno a 1,52 quindi mi piace come PEG per il tipo di azienda che è. Se noi andiamo a vedere un breve discounted cash flow vediamo come a mio avviso stimando la crescita per i prossimi anni all'incirca di un 9% anno per il free cash flow passiamo dai 5 miliardi attuali di free cash flow ai 9 miliardi e 9 tra 10 anni all'incirca e quindi un fair value all'incirca sempre di 120 dollari per azione contro i 80 del prezzo attuale quindi una sottolotazione all'incirca del 45%. Per quanto riguarda invece la valutazione fatta sui multipli possiamo vedere come stimando una crescita dell'utile operazione del 12-13% anno per i prossimi anni otteniamo un EPS di 5,94 estimando un P all'incirca di 26 che a mio avviso è corretto seppur più basso rispetto ai multipli che aveva in passato lo ritengo corretto e otteniamo un prezzo operazione di 157 dollari tra 3 anni e quindi un possibile gain all'incirca del 95% che secondo me è più che plausibile vedendo i prezzi attuali di Paypal ed è per questo secondo me che Paypal attualmente è un strong buy detto questo spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like, un commento e ci piacchiamo al prossimo video ciao a tutti